come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità o non so se l'avete già vista l'aggiornamento però oggi parliamo di carta spesa carta dedicata a te reddito alimentare diciamo dei buoni spesa per le famiglie che possono arrivare fino a 940 euro diciamo che se queste qua sono le tre novità importanti del governo che sono state previste una la conosciamo già ed è una cosa vecchia come il mondo però le altre sono state previste proprio dal governo anche per il 2024 questo come dicevo per sostenere la spesa alimentare delle famiglie italiane che si trovano in difficoltà la carta acquisti già la conosciamo già funziona quella diciamo non ha mai avuto grossi problemi e la carta che viene ricaricata di 80 euro ogni due mesi e poi adesso andando avanti nel video vediamo poi anche le altre due agevolazioni diciamo che la carta dedicata a te prevede una ricarica di 460 euro allora non è ancora attiva quella di quest'anno quella dell'anno scorso si era già stata attivata funzionava diciamo che grossi problemi non ne aveva quella di quest'anno ancora non è attiva e stiamo aspettando questo benedetto decreto e poi c'è il reddito alimentare che al momento è previsto solo in alcune città anzi il bando per accedere adesso non avevo seguito molto la questione comunque il bando per accedere scadeva mi pare a marzo se non ricordo male o gennaio marzo ed è funzionante solo in quattro città quindi genova firenze napoli e palermo in realtà secondo me hanno fatto un esperimento però cosa succede che unendo quindi sommando tutte le le ricariche per la carta acquisti e per la carta dedicata a te che dovrebbe in teoria essere attivata entro i prossimi mesi si potrebbe avere diritto fino a 940 euro totali all'anno tutto per la spesa e per l'acquisto dei medicinali diciamo che è in programma hanno detto che in programma per il prossimo 6 di giugno il rilascio di questa carta spesa dedicata a te quindi in teoria sono in arrivo delle buone notizie per chi è già possessore della carta che aveva già ricevuto i mesi scorsi questa notizia è uscita fuori sul sito internet del giornale che si chiama il messaggero poi staremo a vedere se sarà vero oppure oppure no anche perché poi lotto ci sono le votazioni quindi mi sembra un po strana io avrei detto che sarebbe uscita dopo tipo luglio così perché a luglio agosto fanno sempre le uscite le sparate dei bonus e poi a dicembre no perché prima di sono le vacanze estive poi sono le vacanze di natale quindi di solito le sparate le fanno a luglio agosto o a dicembre qui si sta parlando del 6 di giugno mi sembra un po strano però staremo a vedere allora partiamo dalla carta acquisti la carta acquisti per il 2024 c'è non ci sono problemi è una carta prepagata ricaricabile ricaricabile ricaricata dallo stato che viene caricata ogni due mesi con 80 euro serve per pagare la spesa alimentare e le spese sanitarie quindi farmaci non farmaci eccetera serve anche per le bollette della luce e del gas e oltretutto si possono avere anche degli sconti nei negozi convenzionati è destinata intanto prevalentemente a tutte le persone che hanno più di 65 anni o ai minori di tre anni vabbè in questo caso non è che il bambino va lì col banco ma fa la spesa viene rilasciata ai genitori per ricevere quella carta basta semplicemente andare in ufficio postale compilare il modulo ovviamente bisogna avere anche lì si aggiornato e quant'altro ma vabbè ok e si compila il modulo si lascia lì e poi vi contatteranno dopo per dirvi se è accettato oppure no ora vediamo la carta dedicata a te diciamo che con l'ultima legge di bilancio il governo aveva già rifinanziato questo bonus agevolazione non so chiamatelo come volete con 600 milioni di euro al momento come abbiamo già detto non è ancora funzionante nel senso che la vecchia versione quella dell'anno scorso aveva funzionato avevano rilasciato e via quella nuova ancora non è funzionante ecco diciamo così perché manca il decreto attuativo che hanno detto dovrebbe arrivare tra qualche settimana e l'importo dovrebbe essere di circa 460 euro dovrebbe anche questo poi lo capiremo quando può uscire a questo decreto questo bonus ricarica importano so chiamatelo come volete può essere speso per l'acquisto di beni alimentari pane pasta carne uova eccetera eccetera non sono incluse le bibite zuccherate o alcoliche e stessa cosa vale per i medicinali perché per i medicinali sappiamo che c'è l'altra carta ecco e invece sono inclusi i carburanti che con l'altra carta non si possono spendere ma non si possono usare ora vediamo l'ultimo che il reddito alimentare che come vi ho detto è già partito in quattro città genoa firenze napoli e palermo e hanno detto che potrebbe essere esteso a sto punto in tutta italia perché pare che queste quattro città sono state un esperimento non chiediamoci perché proprio genova firenze napoli e palermo non sappiamo non lo sapremo mai però a questo punto ci viene da pensare che quelle quattro città sono state un esperimento e dovrebbe essere diciamo ampliato tutta l'italia e praticamente consiste questo reddito alimentare nella possibilità di ricevere dei pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dalla grande distribuzione ovviamente non sono prodotti scaduti che marci cosa perché qualcuno aveva detto persino è ma da ci danno una roba scaduta no non è così è quindi un bel momento facciamoci strane idee bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale youtube a presto ciao ciao